Allora, benvenuti al nuovo video di denuncia a YouTube per il blocco delle visualizzazioni al canale Giovanni Mauri Super Lunano. Ho dovuto fare una ripresa speciale perché se no non riuscivo a dimostrare il tutto. Ho usato Windows Media Player e VLC, lettore multimediale, per riprodurre la ripresa fatta da vivo dal browser, come vedete. E qui vi dimostro come YouTube blocca le visualizzazioni al mio canale, in modo fatto apposta. E voglio completamente sbugiardare YouTube, smerdarli completamente. Basta questo video che ho caricato di ieri. Il 20 febbraio, guardate bene, ho caricato il video denuncia a blocco visualizzazioni a YouTube. E quindi, quel giorno lì, il 20 febbraio, c'erano due visualizzazioni. Speriamo che si veda bene, perché ho usato questo ingrandimento a posto. E qui c'erano due visualizzazioni in questo video che ho caricato. Se ci spostiamo il giorno dopo, mentre ho riavviato il browser, vediamo che il 21 febbraio, vedete da questa parte, improvvisamente le visualizzazioni sono sparite. Vedete, non c'è nessuna visualizzazione. Guardiamo il browser, oggi vediamo il 21 febbraio, nessuna visualizzazione. Vedete? Mentre invece il 20 febbraio, o quanto l'ho caricato, c'erano due visualizzazioni. YouTube non permette di far crescere il mio canale, perché mi blocca appositamente le visualizzazioni. Invece di aumentare le visualizzazioni, le tolgono senza nessun motivo, perché non vogliono far crescere questo canale. Io voglio sputtanare in questo modo, e smerdare YouTube, e fargli perdere la faccia, perché si attaccano a due visualizzazioni. Quindi vediamo il 20 febbraio, c'erano due visualizzazioni, e oggi, il 21 febbraio, non ce n'è più, manco una. Dove andate? In ferie la visualizzazione YouTube, e poi tutte quelle stronzate di video che buttate su come far crescere il canale, come da quegli youtuber stupidi, no? Che dicono come far avere più visualizzazioni, sono tutte stronzate. Dette in parole povere, no? Perché voi, bloccate apposta ai piccoli canali, la crescita della visualizzazione. Io ho fatto in giro su internet, non posso farvelo vedere, perché sennò mi danno lo strike, no? Che persone famose si sono viste calare le visualizzazioni, no? E dire che una piattaforma YouTube di onestà mi fa cagare, no? Mi fanno vomitare. Quindi, il giorno 20 febbraio, non c'erano due visualizzazioni, e così mi succede a tutti gli altri video, come quanto avevo caricato simposia, c'erano cinque visualizzazioni. Mi ricordo benissimo. Questa è la dimostrazione. Qui ce n'erano due il 20 febbraio. E oggi, purtroppo, il 21 febbraio, hanno tolto la visualizzazione, perché hanno paura di sborsare qualche soldino, questi testa di cazzo di YouTube, no? Io non sono un né coglione, né imbecille, no? E quindi, qui vi ho dimostrato chiaramente che io smerdo in diretta YouTube. E poi non dite, stronzate voi YouTuber, oh, come far crescere i video tramite questo, quello, quella... YouTube blocca i piccoli canali e le visualizzazioni. Questa è la prova concreta. Inutile che voi sparate, puttanate, come far crescere il canale, e via dicendo, sono tutte stronzate di quegli YouTuber che buttano su quei video del cazzo che non servono a niente, no? E quindi, vediamo, qui c'erano due visualizzazioni, il 20 febbraio, e oggi, il 21 febbraio, nessuna visualizzazione. Così, mi ho dimostrato, ecco la prova concreta, nessuna visualizzazione, dal browser letterario, però, qui l'ho filmato, ce n'erano due. Se andiamo al browser, qua, non ce n'è più nessuna. Come risulta, qua, che ho fatto il filmato. Bene, ho sputtanato YouTube in diretta, che blocca veramente le visualizzazioni al mio canale, non vogliono far crescere il mio canale, e ho voluto sputtanare YouTube, come vi ho promesso. Questa è la prova più concreta di così, si capisce che loro tolgono le visualizzazioni, e quindi io non sono un coglione, e quindi ho sputtanato in diretta YouTube. 20 febbraio, due visualizzazioni, l'ho filmato, e adesso nessuna visualizzazione, 21 febbraio. Ecco qua. Quindi ho voluto dimostrarvelo a lato pratico, come bloccano le visualizzazioni, perché non vogliono far crescere il mio canale. Così ho sberdato YouTube, e vi ho fatto perdere la faccia, e vi ho anche sputtanato in diretta. che questa bellissima piattaforma, non permette la crescita, e quindi ti prendono pure per il culo. Io non sono né fesso né coglione, come vedete, ho ripreso quanto c'erano le due visualizzazioni, e ho rifatto la ripresa, dopo che ho riavviato il browser. Questa volta ve l'ho messa nel culo. Quindi vi saluto, ho sberdato YouTube in diretta, e questa è la dimostrazione pratica, di come mi bloccano le visualizzazioni, per non far crescere il mio canale. Salve a tutti, mi ho bene sputtanato YouTube, così perderete la faccia, visto che vi divertite, a metterla nel quel posticello, ai piccoli canali, dovreste essere invece una piattaforma di onestà, e siete una piattaforma disonesta, e vi sputtano davanti a tutti. Salve a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.